salve salve a tutti i amici di cycling side barcaffè questa volta non c'è luigi ma come vedete c'è una persona che probabilmente già conoscete un ragazzo un ciclista che pedala tantissimo tant'è che lo è un ultra cycler addirittura e omar di felice ciao omar ciao guido ciao ecco di cosa parliamo con te ovviamente il tema è quasi obbligato siamo in inverno fa freddo tu sei uno specializzato veramente a pedalare d'inverno hai questa predilezione come ti è venuta in mente di pedalare d'inverno ma non hai freddo perché penso che sia la domanda che ti fanno tutti no sì beh allora io ho sempre avuto un amore per l'inverno per le condizioni estreme soprattutto per il freddo e quindi diciamo che quando poi ho iniziato con la mia carriera nell'ultra cycling che appunto il ciclismo estremo che va oltre il ciclismo tradizionale mi sono detto infiliamoci dentro anche le avventure invernali e quindi inventiamoci questo filone del prendere la bicicletta da strada ora diventata bicicletta da gravel e andare su neve su ghiaccio in posti sempre più a nord sempre più freddi quindi diciamo che da qui nasce la poi il connubio tra ciclismo e freddo estremo alla domanda ma tu non senti freddo rispondo sempre dicendo che io sono un essere umano normale come te come chiunque altro che ci sta guardando e ascoltando e quindi io il freddo lo percepisco lo sento non è che io abbia uno scudo particolare che mi difende dal freddo la differenza ovviamente è nell'approccio nella filosofia con cui io mi avvicino al freddo e nella voglia e capacità poi allenata nel tempo di affrontarlo quindi un po grazie alla tecnologia tutto quello che diciamo le aziende ci mettono a disposizione in termini di abbigliamento e di mezzo tecnico e in parte soprattutto poi anche come approccio mentale a quello che è anche il freddo a pedalare in condizioni invernali senti chiariamo subito qual è la temperatura più bassa in cui hai pedalato in bicicletta guarda ero in lapponia meno 35 36 gradi si è spenta tutta la strumentazione elettronica poi quando mi sono fermato ad un'area di servizio mi hanno detto mi hanno chiesto ma eri tu il ciclista che pedalava lì da solo sei un pazzo qui la temperatura era di meno 40 gradi diciamo che tra i meno 35 e meno 40 ecco questa è un po la condizione quindi già già mi stai rispondendo a una domanda che volevo farti no perché noi abbiamo visto che adesso si è spinto tanto verso l'utilizzo della bicicletta in primavera per la mobilità per favorire la mobilità in primavera era facile belle giornate bel tempo caldo così adesso devo dire si sta spingendo un po meno e alle persone quando dici ma scusa perché non ti muovi in bicicletta e dicono ma fa freddo piove ho freddo ecco lui è andato a meno 30 meno 40 addirittura in bicicletta ma per fortuna in italia queste temperature insomma a meno che non andate sulle cime più alte delle alpi ma non è questo il caso in città non si toccano assolutamente temperature del genere quindi si può fare ma dipende che cosa dall'abbigliamento che cosa consigli a chi pedala in città intanto allora di base un approccio mentale e ovviamente noi siamo un paese della fascia mediterranea e quindi siamo abituati ad avere delle temperature più umidi e anche nell'approccio mentale amiamo il caldo a chi non piace e quindi di fronte alla pioggia al freddo all'arrivo dell'inverno alle perturbazioni abbiamo un approccio rispetto a questo cambiamento climatico molto negativo quindi arriva il freddo ci dobbiamo coprire dobbiamo stare in casa dobbiamo uscire in mano in auto insomma tutte cose che senza arrivare a pedalare ovviamente quello che faccio io è estremo ed è qualcosa che lo faccio io lo fanno gli atleti come me ma se noi guardiamo e buttiamo un occhio in alcuni paesi del nord Europa ad esempio troviamo luoghi dove non esiste neanche forse il problema pedalo non pedalo perché gli inverni sono talmente piovosi gli autunni sono talmente brutti e sono talmente pieni di condizioni avverse che se loro avessero questo approccio mentale praticamente non metterebbero il naso fuori casa questo che significa significa che ci possiamo vestire ci possiamo attrezzare possiamo muoverci fare anche del commuting quindi non avventure o allenamenti per forza ma prendere la bicicletta e fare i due tre chilometri cinque chilometri per andare al lavoro fare la spesa comodamente con la nostra bicicletta è un discorso di approccio mentale anche perché se uno esce caldo da casa ci mette un po a raffreddarsi ad avere freddo anche se non è coperto tantissimo no immagino come come cosa puoi dire a chi si muove in questo modo appunto i cinque sei chilometri che poi sono un po lo spostamento medio che è stato calcolato di chi si sposta in città normalmente insomma ma guarda io di solito porto sempre la regola della mezz'ora cioè mezz'ora è più o meno lo spostamento e il tempo medio che la persona deve andare al lavoro a fare la spesa a prendere il caffè al bar con gli amici a fare un giro di solito impiega e quindi mezz'ora di freddo di pioggia di condizioni anche avverse a meno che non stiamo parlando veramente di allerte particolari non è nulla di così compromettente quindi in quel caso basta veramente essere attrezzati bene predisposti bene e si può affrontare qualunque condizione poi è chiaro conosco persone che fanno del commuting anche più spinto che magari utilizzano anche il commuting lavorativo per allenarsi ma quelle sono già una fase più avanzata diciamo che l'utente medio che va in giro in bicicletta in città secondo me con ormai tutte le strumentazioni che ci vengono messe a disposizione l'abbigliamento tecnico le giacche antipioggia le scarpe protettive possono andare al lavoro qual è la più grande secondo me obiezione che spesso viene mi viene fatta e a volte sono capitato anche in discussioni dove ti dicono eh ma io non posso andare al lavoro sudato eh ma io non posso andare al lavoro con la giacca bagnata eh ma io non posso andare al lavoro con le scarpe con cui puoi pedalare con le scarpe con cui lavoro se noi guardiamo al nord Europa queste cose le fanno non è che al nord Europa non abbiano gli uffici non abbiano i posti di lavoro o vadano sempre vestiti da atleti è un'questione di approccio mentale è entrare nell'ottica per cui sopra al mio abbigliamento devo mettere una giacca antipioggia magari un po più sportiva magari un po più diciamo tecnica e quindi pensare all'abbigliamento anche in chiave dello spostamento ma chiaro magari ci si può portare anche uno zainetto io vedo qui io sto a Varese da queste parti quando è la bella stagione in particolare si cominciano a vedere quelli che io chiamo i ciclisti con lo zainetto no verso le sei del pomeriggio le sette che sono quelli che escono dall'ufficio si cambiano e si mettono della roba più sportiva per pedalare un po di più e tornare a casa magari sudando tanto poi arrivi e ti fai la doccia e il resto è nello zainetto anche questa qui può essere una soluzione esatto ormai appunto come parlavamo della tecnologia della tecnica di quello che abbiamo a disposizione possiamo portare lo zainetto possiamo comprare delle borse da bikepacking da applicare la bici ci sono valigie che si possono convertire a loro valigette lavoro che si valigette si convertono in zainetto e quindi hanno anche lo spallaccio ci sono una marea di opzioni che noi possiamo adattare c'è una reticenza mentale io mi rendo conto ad esempio faccio un esempio banale ho lavorato anch'io in un ufficio prima di questa carriera e il fatto di dire arrivo a bicicletta al lavoro e devo parcheggiare la bici magari in un posto sicuro perché non voglio che me la rubino quello già viene vista come una cosa dice oddio ma tu vieni a lavoro in bicicletta oddio ma tu hai bisogno del bagno per cambiarti o della doccia magari per lavarti ecco queste sono tutte cose che mai all'estero già esistono ma non riguardano le cose di meteo riguardano la difficoltà e impossibilità di farlo riguardano piuttosto l'approccio filosofico sculturale che c'è da questo punto di vista secondo me culturalmente dobbiamo fare ancora dei grandissimi passi in avanti certo ebbè ma è una questione anche di abitudine facciamo un passo avanti invece nel tipo di ciclista no quello che vuole comunque allenarsi in inverno ecco ti dicevo io sto a varese qui magari ci sono delle belle giornate di sole che si sta bene in città come si va in giro per le valli magari fa molto freddo ci sono zone dove noi diciamo non batte mai il sole per tutto l'inverno quindi ogni rivolo d'acqua è un rischio ghiaccio tu sei uno che ti abbiamo visto pedalare sul ghiaccio che consigli puoi dare a chi vuole allenarsi e al tempo stesso non vuole rischiare di di farsi male col ghiaccio sgonfiare un po' le gomme utilizzare come particolari come ti regoli e ti regoleresti te allora guarda dobbiamo fare un distinguo tra quello che faccio io che è prendere la bici attrezzarla per il ghiaccio e partire sapendo che per x mila chilometri pedalerai solo su ghiaccio quindi tu vai già lì con un livello di attenzione elevato con l'equipaggiamento adatto quindi gomme chiodate tutto quello che serve e sai che dovrai pedalare in quelle condizioni è diverso e mi rendo conto che è molto diverso mi capita anche a me qui quando mi alleno in montagna di prendere la nostra bicicletta da corsa a temperature più o meno normali su strade pulite e trovarsi la classica curva o zona d'ombra dove ti trovi di colpo la lastra di ghiaccio in quel caso lì può diventare molto pericoloso perché non siamo preparati tecnicamente perché ovviamente non possiamo girare con una bici da ghiaccio per fare veramente 100 metri su magari 50 chilometri no quindi io quello che consiglio sempre in inverno è comunque di mettere delle gomme di sezione più larga ora tutti i telai da strada per chi ha detto non ha quelli da gravel c'è la possibilità di mettere delle gomme molto più larghe in inverno io per diritto sempre magari un battistrata un po più tassellato quindi cercando magari di usare anche pressioni più basse in questo ecco io utilizzo il sistema tubeless che ti dà la possibilità comunque di lavorare a pressioni esercizio molto più basse quindi in quel caso hai un'aderenza maggiore e poi tanta attenzione quando riusciamo ad allenarci solitamente vicino casa più o meno dopo un po facciamo sempre non dico gli stessi giri ma conosciamo le zone dove andiamo no quindi ovviamente quando sappiamo che andiamo in determinate zone dove c'è il rischio di ghiaccio prestare una maggiore attenzione quella fondamentale ecco perfetto senti siamo già qui arrivati al limite però l'ultima domanda che è quella che criticano sempre chiedono tutti quanti quando si tratta di pedalare nel col freddo dicono sì ma io mi vesto pesante ho l'abbigliamento tecnico tutto quanto così ma mani e piedi mi si congelano sempre che non riesco più a muoverli tu che consigli puoi dare come fai adesso ci sono anche dei prodotti che scaldano le mani ma senza arrivare a questi estremi che pure comunque sono utili e sempre della tecnologia pure che dicevi tu e ci aiutano cosa consigli di fare per più o meno salvare mani e piedi dal freddo così insomma senza arrivare a meno 40 gradi guarda io utilizzo un sotto guanto e una calza o sotto calza in caso di molto freddo in lana merino perché lana merino perché lana merino comunque un ottimo isolante termico e aderendo bene alla pelle fa sì anche che il freddo proprio non passi quindi io solitamente utilizzo quello come primo strato e poi sopra vado a mettere un guanto o ad esempio una scarpa per i piedi il consiglio che io do è quello di comprare una scarpa invernale se noi ci pensiamo un attimo quando arriviamo ad autunno noi la persona normale media cosa fa prende le scarpe estive le infradito la scarpa aperta le mette nello scaffale e tira fuori le scarpe per l'inverno noi ciclisti invece fino all'altro ieri abbiamo un paio di scarpe con cui pensiamo di poter coprire da più 35 gradi a meno 2 meno 3 per chi abita al nord e magari deve allenarsi al freddo e questo è sbagliato perché la scarpa da ciclismo da competizione non è pensata per essere invernale quindi non ha un'imbottitura in materiali specifici consiglio invece di comprare una scarpa invernale che il più delle volte è rinforzata ha un'imbottitura magari in materiali come il Goretex e magari con un rivestimento impermeabile quindi in caso di umidità e di pioggia ci protegge che è senz'altro meglio della classica diciamo escamotage della scarpa più copriscarpa doppio calzino che va a creare una serie di strade di scommodità che poi per vestirti ci vuole tanto quindi io consiglio sempre di comprare un paio di scarpe invernali metterselo lì nel guardaroba e usarlo tutti gli inverni tanto comunque è una scarpa con cui noi pedaleremo poche migliaia di chilometri ed ha una durata maggiore perché comunque le suole sono molto più resistenti le tomaie idem quindi secondo me questo è il miglior consiglio che posso dare per i piedi. Certo, per le mani? Per le mani sotto guanto e lana merino un buon guanto e poi c'è da dire anche una cosa diciamo a cappello di tutto quello che ci siamo detti comunque il ciclismo è uno sport che si fa all'aperto è un ciclismo dove si respira l'aria si può affrontare la pioggia, il vento, il freddo con le dovute cautela e la dovuta attenzione comunque bisogna anche essere preparati a soffrire un po' è il bello del ciclista poi è proprio che ama un po' la sofferenza del ciclismo quindi nei limiti del sopportabile prendere un po' di freddo non fa male. Ecco e se ce lo dice Omar di Felice che ha pedalato a meno 40 gradi ci possiamo decisamente fidare. Bene Omar siamo arrivati alla fine ricordiamo ai nostri lettori di iscriversi al nostro canale YouTube, ai canali su Spreaker, i podcast eccetera su cui pubblichiamo questa bella chiacchierata con Omar ringraziamo tutti quanti, ringraziamo Omar per aver avuto la pazienza di raccontarci un po' di sé e darci qualche consiglio e alla prossima. Grazie Omar e ciao a tutti. Grazie Guido e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.